Tutto Orecchi, un podcast dell'Istituto Svizzero Media e Ragazzi, a cura di Letizia Bolzani, realizzato con il sostegno di Copcultura e Fondazione Ulrico Höpli. Buongiorno, oggi apriamo con un romanzo che comincia con degli adolescenti in un campus, adolescenti che hanno concluso un periodo importante della loro formazione, festeggiano, bevono anche un po' e si preparano per il periodo di formazione successivo. Tutto normale, sembrerebbe. E invece no, perché questi adolescenti non si chiamano, che so, Matteo, Giulia o Luca, ma Delta 22, K13, Beta 22. E il percorso successivo a cui si stanno preparando è quello detto del potenziamento. E allora capiamo che non siamo qui nell'oggi, nella realtà, ma in un mondo ipotetico, immaginario, futuro, un mondo distopico, che però potrebbe non essere così improbabile. Un mondo inquietante nel quale alle macchine è stato delegato talmente tanto da essere diventato ormai un mondo dominato dalle intelligenze artificiali. E i giovani lettori a cui questo romanzo è destinato sono invitati allora a interrogarsi su qual è il limite da stabilire per non essere dominati dall'intelligenza artificiale, con cui peraltro le nuove generazioni avranno sempre più a che fare. E soprattutto qual è il senso e il valore dell'umano. Alla seconda umanità si intitola questo romanzo, con un titolo che in evidenzia proprio il valore di messaggio, con quel rivolgersi all'umanità, anzi alla seconda umanità, come se alla prima fosse successo qualcosa. Non vi dirò altro, se non che il romanzo è edito da Il Castoro ed è scritto da Luigi Ballerini, uno dei più apprezzati autori per ragazzi, nonché medico e psicoanalista. Ascoltiamolo, partendo proprio da qui. Che cos'è l'umano? È proprio la questione che pone il libro. Che cosa rende uomo l'uomo? E credo che sia una questione radicale ai tempi di oggi, ma la ritengo particolarmente radicale per i più giovani, perché i giovani di oggi saranno le prime generazioni che avranno davvero che fare con l'intelligenza artificiale. E allora quando parlo con certi ragazzi e loro fanno la fantasia, dico sapete che voi avrete a che fare con gli androidi e qualcuno fa la fantasia che è bello avere una fidanzata androide? Io dico ma sei sicuro perché? E ti dice sempre che hai ragione, ti dice sempre che sei bello, che sei bravo. Dico accidenti, ma sarà questo il modo davvero di avere una relazione? E quando si cresce? Quando crescerai? Quando ti confronterai? Quando acquisirai nuove passioni, nuove idee? Quindi la questione di cosa rende l'uomo uomo è radicale, ossia che cosa renderà preferibile avere un compagno o una compagna umana imperfetto, a volte un po' rompiscatole, che può contraddirti rispetto alla soddisfazione narcisistica di uno che ti dice che sei sempre perfetto. E il libro voleva andare proprio a cogliere questo, come lo sa fare un romanzo, un romanzo distopico di fantascienza, quindi immaginando un futuro dove è accaduto qualcosa, in questo caso di quasi catastrofico, anzi catastrofico. Il romanzo distopico di fantascienza non è la prima volta che lo frequenti. Cosa ti affascina in questo genere? Mi affascina molto il fatto che, soprattutto la distopia, intercetta qualcosa che c'è già nella realtà e lo porta alle estreme conseguenze. È come se dicesse, guarda che per questa strada possiamo arrivare lì. E dirlo ai più giovani, quindi preconizzare un futuro ai giovani e anche dire, guarda che questo futuro non è già scritto, non è disegnato, questo futuro lo costruite voi. Quindi voi avete in mano la possibilità di farlo andare in questa direzione e se è distopica vuol dire che qualcosa è andato storto, oppure di farlo andare in una direzione diversa, dove le questioni vengono affrontate con più umanità, possiamo dirlo, tenendo sempre presente del valore uomo e della persona. In questo romanzo mi sembra molto importante il tema del corpo, paradossalmente, perché stiamo parlando di intelligenze artificiali, è un romanzo per certi versi scorporizzato, se possiamo usare questo brutto verbo, però il corpo c'è e c'è molto. C'è molto, c'è tanto, doveva, voleva esserci. È centrale la questione del corpo, perché il corpo è ciò che ci permette di essere in relazione con l'altro. Siamo un'unità somatopsichica, siamo un'unità mente-corpo, non possiamo disgiungere le due. In questo momento in cui siamo a rischio di smaterializzazione dell'esperienza, un po' perché veniamo dal Covid, un po' perché abbiamo fatto due anni di dad, un po' perché possiamo considerare il nostro migliore amico, un soggetto con cui magari giochiamo da qualche anno online, ma con cui non ci siamo mai visti e mai incontrati, ho trovato questo paradosso. Per recuperare la nostra pienezza di uomini e per recuperare anche la nostra spiritualità e il nostro pensiero più completo, abbiamo bisogno di tornare come un nuovo materialismo, un materialismo che tenga conto del corpo come elemento di relazione. Quindi c'è bisogno di corpi che si abbracciano, c'è bisogno di corpi che si scontrano, che si incontrano, che fanno le torte, che fanno, che vanno a scuola insieme, che litigano, che mettono le cose a posto, che le rovinano. È proprio la centralità del corpo, tenendo presente che questo libro nasce anche dai miei studi su delle correnti di pensiero che si chiamano transumanesimo e postumanesimo, in cui l'idea che inizia a essere sempre più presente è che l'uomo è uno sciame di bit, uno sciame di messaggi, questo è il termine, su un sopporto biologico. L'idea è quindi che tutto sommato questo puro sopporto biologico potremmo anche disfarcene, per cui il passaggio sarebbe come se fossimo dei vecchi floppy disk e in qualche modo dovremmo, passiamo ai cd, poi passeremo alle chiavette usb e poi ci sarà un altro supporto. Ecco l'idea è proprio che il corpo non è un puro supporto biologico di bit, di pensieri, ma siamo impastati, i pensieri sono impastati nel corpo e il corpo è impastato nei pensieri. C'è in questi personaggi, adesso non anticipiamo troppo, ma insomma in questi personaggi quando perdono quella che è la loro umanità e si risvegliano in una nuova dimensione artificiale, un nuovo apprendimento dell'esperienza. E c'è un grosso lavoro anche sul linguaggio, perché tanti termini a loro non dicono più niente, quindi viene, come dire, riappresa ogni parola. Sì, il risvegliarsi in un corpo non proprio, di cui si fa esperienza per la prima volta, richiede l'acquisizione del corpo, che non è solo per via cognitiva, cioè la conoscenza del proprio corpo avviene via esperienza, non è la pura elencazione delle sue funzioni fisiologiche e delle sue parti anatomiche. Allora anche qua, come si conosce il proprio corpo? Non lo si conosce solamente studiando, io sono medico, ho studiato bene l'anatomia e la fisiologia e la conosco. Questo non fa sì che io conosca il mio corpo, conosco il corpo umano. A me piace la distinzione inglese tra body e corpse, perché body è il corpo animato, il corpse è quello dell'anatomo patologo, è quello del cadavere. Allora, per avere una conoscenza del proprio corpo, nel senso più propriamente detto, c'è bisogno di più del cognitivo. Questo è un passaggio che fanno e anche la scoperta poi del non biologico o anzi di quello che è in passato col biologico, ma di fatto sono le emozioni, i sentimenti, gli affetti, che in una certa parte della vita, ma mi viene da dire anche da adulti, non dobbiamo mai dare per scontati e dobbiamo conoscerli per conoscerci. C'è un personaggio in questo romanzo che si chiama Mira e un romanzo di Luigi Vellerini precedente si intitola Mira sa tutto. Allora c'è un legame? Certo che c'è un legame, è un legame d'affetto, è un legame d'affetto verso quei tantissimi lettori che di fronte al finale molto aperto di Mira sa tutto. Io ci tengo a precisare che il finale aperto da parte mia, ma oserei dire da parte degli scrittori e delle scrittrici, è un atto di stima verso il lettore. È come dire da qui in poi fai tu, io ti ho portato per mano fino a questo punto della storia, adesso pensaci tu a farla continuare. Però effettivamente era un finale molto aperto e decine e decine e decine, potrei anche dire centinaia di proteste, messaggi, fino all'ultimo quasi decisivo, su Instagram un ragazzo mi ha mandato un messaggio con manine giunte, signor Ballerini esigo un sequel, a Mira sa tutto. Allora ho pensato di fare così, di costruire un libro che possa essere stand alone, ossia che possa essere letto con piacere da chi non ha letto Mira, quindi non è propriamente un sequel. Ma chi ha letto Mira sa tutto, a un certo punto della storia ritroverà il nome Mira, ritroverà Alepam, Tom e Vera che erano i protagonisti e avrà la possibilità di soddisfare la curiosità su cosa è successo a loro come flashback. Questo possiamo anticiparlo, nel senso non è un sequel che inizia esattamente dove finisce quello precedente, ma lo scopriremo in feedback. E qui il finale soddisfa, perché non è un finale aperto, cioè veniamo a sapere molto. Questo è un finale che, appunto, non volevo fare un altro scherzo, non sarebbe stato uno scherzo, ma a questo ragazzo con le mani giunte, per cui immagino che non mi manderà più un messaggio di questo tipo. È un finale aperto nel senso che un buon finale, e spero che lo sia, rilancia. Rilancia e apre sul futuro. E qua c'è tutta l'apertura sul futuro della cosiddetta seconda umanità, che è da scoprire, e sarà bello provare questo sì da lettore, immaginarci come se la caveranno questi pionieri della seconda umanità. Era Luigi Ballerini, autore di Alla seconda umanità, edizioni Il Castoro, proponibile dai dodici anni. Uno dei temi di questo romanzo, come abbiamo sentito, è il corpo. Un corpo imperiosamente tenuto ad essere perfetto e perfettamente performante. Nell'era dei social, delle nostre immagini pubblicate ovunque e confrontate spesso in modo frustrante con quelle degli altri, il corpo può essere, per i più giovani, una fonte di ansia e di profondo disagio. Lo è sempre stato, ma ora forse anche di più. Come i dati ci confermano gli episodi di body shaming, cioè di giudizio e di derisione nei riguardi del corpo altrui, sono in aumento. Annalisa Strada, anche lei una delle più apprezzate scrittrici per ragazzi, ha dedicato a questo tema un libro, appena uscito da Einaudi Ragazzi. Non è un romanzo, ma un breve saggio divulgativo. Un libro che aiuta le ragazze e i ragazzi ad affrontare questo disagio. Si intitola XXNormal, stop al body shaming. Allora, XXNormal è ispirato alle taglie dell'abbigliamento e quindi noi siamo tutti abituati a edgere XL, XXL, XS e mi piaceva che tra il large e lo small campeggiasse soprattutto il normal, perché altrimenti questa taglia d'abbigliamento diventa un'etichetta per noi stessi e non va più bene. Quindi la normalità è quella che ci contraddistingue, per fortuna. La normalità di cui tu però spieghi molto bene che cosa può essere. Cioè, perché uno dice io non mi sento normale, invece tu da lì parti per parlare ai ragazzi e alle ragazze. Esatto, parto dal fatto che fortunatamente siamo normali. Siamo normali quando siamo altissimi, bassissimi, quando siamo più morbidi, quando siamo più secchi. La bellezza è appartenere comunque al concetto di normalità, che stiamo un po' perdendo di vista perché lo stiamo ultra frazionando e soprattutto perché su alcuni aspetti del corpo e dell'apparire in generale, anche come abbigliamento, come acconciatura, come ci presentiamo, lo stiamo parcellizzando per cercare di portarlo a uno standard ideale, che in realtà non esiste. E quindi in questa baraonda stanno crescendo dei ragazzi molto insicuri e che hanno le più varie reazioni all'insicurezza. E allora questo testo vorrebbe essere rassicurante sul fatto di scandagliamo tutti gli aspetti del problema, vi stiamo accanto nel vostro momento di difficoltà, ma non perdiamo di vista il fatto che essere esseri umani comporta una splendida varietà che include una grandissima normalità. Ecco, belli questi tre punti. Scandagliamo tutti gli aspetti del problema, che è esattamente quello che hai fatto. Poi vi stiamo accanto, secondo punto, perché questo lo si percepisce, è una persona adulta, seria, che rispetta i ragazzi che gli sta accanto nel momento di difficoltà. E poi al terzo punto non perdiamo di vista che siamo tutti normali. Sono molto contenta e spero che sia un libro utile per i ragazzi, ma forse anche per gli adulti. Perché diciamo, io sono una signora di oltre mezza età e che ha delle coetanee o delle persone un pochino più giovani che comunque vivono con lo stesso disagio. Ovviamente è una proporzione diversa quella dei ragazzi, con un'attitudine diversa, ma non c'è nessuno che sfugga a questo bombing di informazioni che ci impongono di essere in un modo o nel contrario. È stato difficile scrivere questo libro? Credo che sia onestamente il libro più difficile che il quale io abbia mai lavorato. Perché il body shaming è un tema di cui si parla, ma non in maniera adeguatamente approfondita. Cioè, almeno nelle ricerche che io ho fatto, a parte il fatto che non ho trovato altri testi, altra saggistica che ne parlasse, se non su aspetti specifici, cioè sul tema del peso, per esempio, sul tema dell'essere belli o dell'essere brutti, sul tema dell'essere maschio o dell'essere femmine, ma non un testo che riunisse questo. E le informazioni che rimbalzano, diciamo, quelle di più facile accesso ai ragazzi, tendono ad essere molto ripetitive. E quindi ho fatto un lavoro di incrocio delle informazioni, di analisi dei dati, alla ricerca delle voci esperte che si fossero espresse magari in una maniera non direttamente accessibile, ma magari all'interno di convegni, webinar o altro. E quindi ho ascoltato e letto molto e spero di essere riuscita a essere una buona mellificatrice, cioè a raccogliere e a restituire in maniera originale ma appropriata. Hai già fatto incontri con i ragazzi su questo libro? Allora, questo libro è freschissimo di stampa, quindi non ancora, però ho avuto occasione negli incontri ultimi che ho fatto di accennare a questa uscita. E quello che mi ha colpito è quanto giovani siano le persone che si interessano. C'è una quarta o quinta primaria, sono comunque sensibili, riconoscono questo come un problema. E proprio dalla conversazione poi separata con le docenti, effettivamente sono sensibili a questo argomento, iniziano già a utilizzare il body shaming come strumento gli uni contro gli altri. Magari ovviamente non si tratta di bullismo, magari non sono fenomeni gravi, ma è una sensibilità accesa. E questo mi ha molto colpito. Quindi è più presente di prima questo? Senza dubbio, anche un pochino perché l'immagine è il veicolo dell'informazione primaria e quindi noi guardiamo tanto e guardando tanto commentiamo e giudichiamo tanto. Un po' forse il fatto di esserci visti poco ci ha reso un pochino più perentori nei giudizi sugli altri perché, essendo chiusi nelle nostre case per un lungo periodo di tempo, ci siamo un po' meno confrontati con la reazione diretta dell'interessato al commento. E quindi sì, è un argomento molto vivo. Negli incontri di cui tu parlavi, quindi incontrando anche tanti insegnanti, hanno notato dei cambiamenti all'interno della classe dopo questi problemi di body shaming? Allora, alcuni di maggior rilevo e altri di minore, però questo mi ha sollevato un pensiero. Insieme alla lavorazione del testo, questa esperienza con le scuole diretta, è minuto in mente che ci stiamo ponendo un sacco di problemi ultimamente, per esempio su come scrivere i maschili, i femminili, come rendere i collettivi, come rendere la generalità. E quindi troviamo soluzioni come gli asterischi, la joie, facciamo proposte diversificate. Anche le sigle di distinzione dei gruppi diventano sempre più articolate. E in me nasce l'impressione che ciascuno di noi abbia voglia di essere riconosciuto nella propria particolarità in maniera anche estrema e che quindi richieda di avere una voce solo per sé che lo riconosca come elemento del gruppo. Ma in realtà forse questo frazionamento è contrario al senso di comunità e quindi finché non saremo tutti, semplicemente tutti, probabilmente non saremo davvero una comunità. Come hai lavorato per dare ai ragazzi questa impressione di ti sono accanto, devi farti rispettare sicuramente, ma non restarci male? Allora, questo devo dire che mi ha aiutata moltissimo l'esperienza di docente. Cioè quindi ogni volta che io scrivo, come dire, attingo moltissimo questa esperienza di contatto diretto e continuato con dei preadolescenti o anche dagli incontri che faccio davvero da tanti anni con i bambini. Penso che sia proprio il frutto dell'esperienza e devo comunque dire che ogni volta che io faccio un'immersione nel mondo dei ragazzi penso che saranno loro a salvarci perché li trovo davvero splendidi. Era Annalisa Strada che ci ha parlato del suo libro XX Normal, Stop al Body Shaming, edizioni e in Audi ragazzi, da dieci anni. Florence Parry Haydee, nata nel 1919 e morta nel 2011, fu una prolifica scrittrice americana, poco conosciuta in Italia se non grazie a Bonpiani che ha pubblicato le sue Storie per bambini perfetti e favole a cui non badare troppo. E ora anche i libri dedicati a Tricorno. Tricorno si restringe, un piccolo classico, e ora Il tesoro di Tricorno. Usciti in originale tra gli anni 70 e 80 e illustrati da Edward Gorey, questi piccoli libri hanno tutto lo stile caustico, tutt'altro che tenero dell'autrice, e anche naturalmente il suo humor acuto e pungente, in particolare nell'evidenziare l'indifferenza di certo mondo adulto nei confronti dell'infanzia. Neanche quando il piccolo Tricorno comincia a restringersi e i vestiti gli vanno larghi e non arriva più al tavolo, i grandi gli prestano attenzione. E nessuno fa una piega nemmeno quando, come nel Tesoro di Tricorno, appena uscito in italiano sempre da Bonpiani, Tricorno dice ai genitori, alla zia e al mondo adulto in generale che lo circonda, che l'albero del cortile, al posto delle foglie, aveva delle banconote. Nessuno lo ascolta e tutti gli rispondono con delle belle frasi fatte. Anche alla fine, quando «Le banconote sono tutte sbiadite», disse Tricorno all'imbianchino, «si stanno tutte ritrasformando in foglie». «Tutti abbiamo dei problemi», disse l'imbianchino. Florence Perry Heide «Tricorno si restringe» «Il tesoro di Tricorno», edizioni Bonpiani da sei anni. Un altro grande autore americano del Novecento, riproposto grazie all'editore Baba Libri, è Arnold Lobel, illustratore e scrittore. A lui dobbiamo incantevoli storie di animali, delicate, umoristiche e un pochino filosofiche, come quelle dedicate a Rana e Rospo, coppia di amici complementari. Da una parte, Rospo, che ha il ruolo del tenero imbranato, goffo e pasticcione, come il clown Augusto, o come ognuno di noi. Nevrotico come noi, disse Arnold Lobel stesso. Just your normal everyday neurotic. Dall'altra, Rana, che ha il ruolo del clown bianco, ragionevole e abile. Tuttavia, Rana non giudica Rospo, non lo disapprova, né dispensa consigli non richiesti. Semplicemente lo accetta così com'è e se serve cerca di aiutarlo, proprio come fanno i veri amici, mentre insieme si godono il fluire, ora tranquillo, ora più mosso, della vita. Adesso, sempre da Baba Libri, è uscito un volumetto che racchiude invece varie storie di Lobel, dedicate a vari altri animali e naturalmente sempre anche illustrate da lui. Il titolo di questo volumetto è semplicemente Favole. È anch'esso nella collana Super Baba, ma con copertina rigida ed è dotato di un codice QR che se lo inquadrate vi permette di ascoltare queste favole lette dall'attrice Alessia Canducci. Naturalmente però leggetele anche voi ad alta voce ai vostri bambini che potranno al tempo giusto anche leggerle da soli perché il testo è in stampatello maiuscolo. Arnold Lobel, Favole, Baba Libri, da cinque anni. La storia con cui come di consueto chiudiamo la nostra puntata è tratta stavolta da un altro bellissimo libro di Arnold Lobel, il cui protagonista è Gufo. Sono storie della buonanotte e il libro si intitola Gufo è ora di dormire. Da Gufo è ora di dormire di Arnold Lobel, edizioni Baba Libri, Gufo e la Luna. Una sera Gufo passeggiò fino al mare, si sedette su un grosso scoglio e restò a lungo a osservare le onde. Era tutto buio, poi un piccolo spicchio di luna si affacciò sulla linea dell'orizzonte. Gufo guardava la luna che saliva in alto, sempre più in alto. Presto nel cielo iniziò a splendere una tonda luna piena. Gufo, seduto sullo scoglio, restò a lungo ad ammirarla. Quando ti guardo, luna, tu ricambi il mio sguardo. Questo vuol dire che siamo davvero buoni amici. La luna non rispose, ma Gufo la salutò, dicendo, adesso devo andare a casa, ma tornerò presto a trovarti. Gufo si incamminò lungo il sentiero. Quando sollevò lo sguardo, vide che la luna era ancora lì. Lo stava seguendo. No, 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 luna, disse Gufo, è gentile da parte tua illuminarmi la strada, ma dovresti restare sul mare dove sei bellissima. Gufo fece qualche altro passo, poi tornò a guardare il cielo. La luna lo stava ancora seguendo. Cara luna, disse Gufo, non dovresti accompagnarmi. La mia casa è piccola e non riusciresti nemmeno a passare dalla porta e poi non ho niente da offrirti per cena. Gufo continuò a camminare e la luna a veleggiare sopra le chiome degli alberi. Luna, disse Gufo, forse sei troppo lontana e non riesci a sentirmi. Così si arrampicò in cima a una collina e gridò più forte che poteva. Arrivederci, luna. La luna si nascose dietro le nuvole. Gufo restò a guardare. Era sparita. È sempre un po' triste dover salutare un'amica, disse. Una volta a casa, Gufo indossò il pigiama e si infilò nel letto. La stanza era buia e Gufo continuava a sentirsi un po' triste. All'improvviso la stanza fu inondata da una luce d'argento. Gufo corse ad affacciarsi alla finestra. La luna stava uscendo fuori dalle nuvole. Luna, mi hai seguito fin qui? Che buona amica che sei! Esclamò. Poi Gufo posò la testa sul cuscino e chiuse gli occhi. La luna splendeva dietro la sua finestra e Gufo non si sentiva più triste, nemmeno un po'. La luna stava uscendo fuori dalle nuvole. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.